ariete confidenze avrai bisogno di parlare con una persona fidata che prima di tutto sappia ascoltarti un amico saprà aiutarti toro ti piaci stai bene con te stesso ed è un bel momento di serenità affettiva e lavorativa e tutta questa serenità ti si legge negli occhi gemelli oggi potresti rovinare per sempre un rapporto profondo ed intenso per colpa di quel senso di superiorità che talvolta senti e ti porta a sentirti migliore di tanti cancro per fortuna c'è l'amore in ogni sua forma venere saprà riconciliarti con il mondo ti salverà ama e lasciati andare leone felice e soddisfatto professionalmente appagato grande entusiasmo per te oggi vergine è un periodo di cambiamenti possibili che coinvolgeranno sia la tua sfera professionale che emozionale ancora una volta la forza dell'amore ti sorprenderà bilancia sei in fase calante un filo di pessimismo cosmico ti pervade e saturno fa la sua parte scorpione non sei il tipo che fa il passo più lungo della gamba sempre ponderato e attento eppure metti sempre a rischio la tua salute che invece devi salvaguardare sagittario la settimana sta per chiudersi il weekend è vicino e nonostante oggi sia una giornata no sarai tutto un fermento per il fine settimana tutto da programmare capricorno venerdì non fa sempre rima con buon dì inconsciamente sentivi il bisogno di nuovi stimoli che in serata saranno anche stimoli per il cuore acquario saturno non ti metterà il bastone fra le ruote tu riuscirai a chiudere la settimana in serenità con grande soddisfazione professionale e tanta voglia di weekend pesci il tuo impegno porterà i risultati attesi ma al prezzo di enormi fatiche